Se vado all'URD mi ritrovo la scritta, ci siamo trasferiti a Fatima, so convinto. No. 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 Non si dice quella parola lì, eh? Si. No. No. Ecco. No. Tu, donna. No. Se un giorno ti viene in mente di amare qualcuno, stai calmo, assietta, pensaci buono e aspettate passi. Amici, oggi ho intenzione di farvi vedere una magia. Allora, qui c'è una borsa assolutamente vuota, come potete vedere. Le mie mani sono assolutamente libere da qualsiasi cosa. Ti rifaccio vedere la borsa. E voilà. Ok. Adesso guardate bene. Oh, qui. Ecco. Ha! Arriva, arriva, arriva. Olè! Guardate. Non fai una cosa intelligente. Cioè, se l'hai scritto per ridere, non fa ridere. Se l'hai scritto e lo farai sul serio, non ti fai del bene. Ci sono ospiti là per me? Sì, madre, stop. C'è qualche uomo tra di loro? Sono tutti uomini. Uhuh, falli! Entrare! Salve, Penelope. No, non chiamarmi Penelope, chiamami Pene, più scicco. Non sciccazzi, ma scicco. Salve, Pene. Questi uomini che vedi con me appartengono al popolo dei Proci. Sono felice di vedervi, non vi vedessi, ma vi vedo. Ed io sono il capo dei Proci. Sei il Procione. Eddimi, Procione. Penelope, sappiamo che da troppo tempo non vedi tuo marito. Eh? Che ti manca la figura di un uomo al tuo fianco. Eh? Del calore di due braccia possenti che ti sostengano. Eh? Per questo io e i miei uomini siamo qui per chiedere la tua... La mia... La tua mano. La mano. Dopo tanti anni che non vedo il mio marito, tu come vuoi a me? A mano. La mano. A mano. E allora bisogna aspettare. Ho da finire la tela, non te lassi, ma te l'avrei data. Siamo qua. Che c'è? Non ti stai divertendo? Minchia! No, tantissimo, proprio... Due ore ho perso per parcheggiare. Ora siamo in piazza, al freddo, in piedi, senza fare niente. A guardare persone che stanno in piedi, al freddo, senza fare niente. Che cosa stiamo... che stiamo facendo? Almeno siamo usciti. Ma per uscire uscire me ne uscivo fuori al balcone. Siamo senza meta, qui, sperduti. Ma al balcone non c'è nessuno. Qua almeno incontri un po' di gente, conosciamo gente nuova. Ma io odio la gente, li odio tutti, Federico, tutti. Levati sta faccia, Fabrizio, levati sta faccia che è sabato sera. Divertiti, si sorridente. Hai ragione. Vi odio. Vi odio tutti. Tutti, tutti. Ciao, ciao.